Ciao Bettaste, che fosse simpaticissimo, che fosse un regista della simpatia, l'avevamo già capito con una delle battute Marvel più belle di sempre, mia moglie ha fatto finta di blippare in un suo Spider-Man, che John Watts fosse uno in gamba, beh l'avevo capito già ai tempi di Clown, peraltro l'avevo intervistato per Bettaste al telefono e avevo appena cominciato a lavorare per Bettaste, c'è ancora quell'intervista penso da qualche parte e mi aveva fatto un'ottima impressione, sia il film, che era un suo corto allungato, un horror intelligentissimo e spaventoso e divertente, che belli che erano quei piedoni che si trasformavano e quei dettagli dei piedoni che si trasformavano su freni, frizioni, acceleratore di una macchina, che bello cara Clown, e poi che belli che sono i suoi Spider-Man, quanto erano gommosi e quanto erano saltellanti prima poi della malinconia e della commozione anche dell'ultimo Spider-Man con tutti gli Spider-Man che si incontravano e anche gli scarti, come Deadpool e Wolverine, insomma John Watts è bravo e John Watts ha scritto, ha scritto Wolves, non solo al diretto ma l'ha scritto, Brad Pitt e George Clooney sono due fixer, il fixer è quello che mette a posto le cose, come Mr. Wolf, come Josh, in un certo film, come, non c'è bisogno di dirlo, come Josh Brolin, in Ave Cesare dei miei amatissimi Cohen all'interno di Hollywood, il fixer che deve mettere a posto droga, prostituzione, alcolismo, cioè deve, diciamo, proteggere la grande macchina del sogno, dell'illusione ovviamente hollywoodiana, che prende a schiaffi chi? George, George Clooney, perché non è Cesare, è Dio, Brolin in quel film per i fratelli Cohen, benissimo, e qui sono degli dei, come direbbe con accento siciliano, Bart Lancaster nel gatto pardo, Brad Pitt e George Clooney del cinema, sì, ma sono due fixer, sono due fixer che vengono chiamati in questo film magnifico, vengono chiamati a mettere a posto una situazione, c'è un cadavere, c'è un corpo di un gigolò, ma è un gigolò, tormentone del film, forse non è un gigolò, no, è un gigolò, ma non lo so, comunque c'è il corpo di un ragazzo steso su un pavimento e forse c'è qualcuno di molto potente che non siamo più noi maschietti, che è la signora, e che è una gran signora, che è Amy Ryan, grandissima attrice, e c'è un telefono che, un numero che vi ha fatto, e c'è un equivoco perché ne arrivano due dei fixer, e parte questa metafora magnifica sul divismo, di chi è questo film, di Brad Pitt o di George Clooney, chi è la star, sono io o sei te, chi è il fixer, sono io o sei te, e allora si osservano due fixer, si spiegano, e come farebbero due grandi attori, come fanno sicuramente due grandi attori in un film, quindi è tutto un gioco magnifico, che John Watts fa però senza quella cinefilia stucchevole che non sopporto, ma riesce a essere, in fondo Watts fa Billy Wilder, cioè in fondo Watts mi ha sempre dato l'idea di essere un regista molto classico, infatti sono belli i suoi Spider-Man, perché lui non vuole assolutamente fare il cinemino per i cinifilini, no, lui vuole fare qualcosa di metaforico, perché è chiaro che è una metafora, ma ha un doppio livello di lettura che poi non deve essere assolutamente mai superiore rispetto a quello al primo, che è action, e che questi fixer insieme arrivati in questa stanza d'albergo, con questo corpo, come faranno e parte? Tutto in una notte, come è uno dei film del mio regista preferito, tutto in una notte parte l'avventura di questi due che non si sopportano, che sono rivali, come si è rivali dentro un film, se sei Brad Pitt e George Clooney, poi ovviamente lo sappiamo che sono amiconi e hanno fatto insieme gli Oceann, lo sappiamo benissimo, ma si gioca su comunque qualcosa che è vero, che è reale, quindi John Watts è un grande regista classico della realtà, sarebbe piaciuto molto ai francesi degli anni 50 questo film, proprio perché è veramente la Hollywood che non ha paura di mettere in scena se stessa i suoi meccanismi, con in più il fatto di ammiccare, hanno i spettatori di dire guarda, c'è anche un secondo livello di lettura, e allora, ma c'è anche un terzo, c'è anche una terza star in questo film e c'è un effetto sonoro, oh, io più invecchio, sarà che non ce vedo, poi c'è una gag pure visiva, ma meno male che ce sento ancora, beh, che belli piragna che si mangiucchiano il corpo di un morto, di un defunto, che bello che il sound design del mangiucchiamento e quanto significato ha in Beetlejuice, qui c'è il sound design di calzettoni di spugna, voi direte, rischi business, eh, ma stiamo là, eh, perché John Watts crea qualcosa di epico, non un balletto col calzettoni di spugna e la mutanda e la camicia, ma una corsa col calzettoni di spugna e la mutanda senza camicia per le strade di una città notturna con l'asfalto bagnato, e si sente le sgommatine del calzettoni di spugna fradicio, che però non perde aderenza, e questa è una cosa magnifica di una persona che corre come un matto e tu senti, ma molto meglio di come ve lo faccio io, e sono impazzito, perché lo fai uno, due, tre, quattro, cinque, poi è come il tatuaggio di Samuel in Baby Girl, alla duecentesima volta che la Rain lo inquadra, ok, ti entra in testa e qua c'è questo sound design di calzettoni calzettoni di spugna, chi è questo qui che corre in mutande col calzettoni di spugna sgommando per la città? Se avete visto il trailer lo sapete, ma diciamo che diventerà la terza star, diciamo solo il nome di questo attore, Austin Abrams, sentiremo parlare di lui, e sta insieme a Brad e sta insieme a George. Divertimento assoluto e poi a un certo punto senti, ma come... e poi i due cominciano a fare le cose all'unisono, all'inizio è tutto un film, anche questo è molto colto sulla divisione e quindi sull'attualità, sull'oggi, sull'orrore dei social, sull'orrore dell'individualismo, sull'orrore del fanatismo, sull'orrore di Brian Di Nazareth che raccontavano i miei maestri già del 79, i nostri eserciti che non sono di minions, che sono di fedeli e quindi il fascismo di oggi, ognuno di noi ha un esercito, ognuno di noi ha appunto un esercito, purtroppo non di minions, pronto a... benissimo, e ognuno di noi è diviso, malissimo, e quindi l'ora all'inizio è questo, no io questa cosa non la faccio, no io questa cosa non la dico, poi a un certo punto vedrete che cominciano, uno prende una pilola per il mal di schiena e la passa all'altro, uno si mette gli occhiali come me che non ci vede più un cazzo, e l'altro si mette gli occhiali perché così ci vede meglio a leggere, e i due cominciano a farlo in sintonia, anche questo è Billy Wilder, e anche questo è John Walls, Walls fuori concorso a Venezia 81, mi sono divertito come un pazzo, ma vi divertirete anche voi come dei pazzi, certo vederlo al cinema è meglio che vederlo in tv, però questo è Apple TV Plus, ciao Betteist!